con i peperoni e poi fra un pò gli mettiamo pure le patate la ciccia si vede la ciccia peperoni appena messi bisogna che cuociono ancora un pò adesso ci sono anche patate c'è tutto bisogna aspettare che cuociono le patate e poi c'è tutto qualche minuto un po di tempo il tempo che cuociono le patate un'inventiva di pietro